Ho un legame particolare con questa città, io sono cresciuto, ci sono rimasto fino ai 24-25 anni prima di andare a Milano e quindi ancora i miei genitori vivono qua, il mio fratello, è una città che io amo molto, dove in questa città ho fatto le scuole, ho fatto la prima radio, le prime tv locali, i primi sogni, lo raccontavo l'anno scorso, pur essendo cresciuto a Verona non avevo mai presentato uno spettacolo all'Arena di Verona perché nei 5 anni di Festival Bar che io ho condotto, all'epoca ricorderete non era possibile portare la musica all'Arena di Verona, quindi per me l'anno scorso è stata la prima volta da presentatore all'Arena e riaccadrà quest'anno. Ho un legame particolare e vorrei proprio partire da Verona per fare i miei ringraziamenti perché è chiaro che poi le idee possono venire ma come sempre, lo sapete meglio di me, è il gruppo di lavoro che fa sì che un'idea possa essere poi un'idea vincente e chiaramente valida. E partendo proprio dalla città di Verona, dalla città di Verona dove sia con il sindaco che ha messo a disposizione anche l'entusiasmo oltre che la professionalità e tutto quello che occorre a questo evento hanno fatto sì che noi potessimo trovarci al nostro agio. E quindi ringrazio il sindaco perché poi è un sindaco vicino anche ai giovani, avendo portato tanta musica, per esempio quello che è il mio mondo all'Arena di Verona, in questo momento all'Arena di Verona e credo al di là di essere il teatro all'aperto come dire più grande in assoluto, ma è un luogo ambito da tutti quanti. Quindi c'è una delle cose che al mondo vogliono fare è poter cantare all'Arena di Verona e basta entrare per capire il perché di questo desiderio proprio a livello mondiale. E quindi complimenti a Gianmarco Mazzi con il quale collaboriamo a stretto contatto anche durante il Festival di Sanremo perché il lavoro appunto del sindaco Sbarina e di Gianmarco Mazzi ha fatto sì che l'Arena sia in questo momento al centro della musica, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Ringrazio Arcobaleno 3 perché poi, ripeto, è un lavoro di gruppo, tutta la struttura, i miei autori, il DJ Massimo Alberti che mi affianca durante le serate che è qui questa mattina e anche fare questo cast è un cast importante. Io anche lì gomito a gomito con Alessio De Stefani che è uno ovviamente che fa parte della produzione di Arcobaleno 3 nonché autore poi del Festival di Sanremo, si va a realizzare una cosiddetta compilation che è quella che molti che hanno la mia età hanno conosciuto e hanno apprezzato. E devo dire che la cosa bella di queste serate, lo dico sempre, che sono tutti gli interpreti originali con le loro canzoni originali. Queste serate evento nel mondo esistono e ognuno di loro è una star. La sera che entra all'Arena di Verona il cantante italiano, internazionale che sia, è una star. Perché molti di loro ancora oggi fanno serate in tutto il mondo e hanno migliaia e migliaia di persone che vanno ad ascoltarli, ad applaudirli. Quindi è una serata formata da vere e proprie star. Adesso io vi farò anche ascoltare alcuni brani. Avremo alla fine, ne parlavo prima con Nicolò, circa 50 artisti che verranno nelle tre serate. Ripeto, sono tutti artisti originali. Di questi anni, perché l'anno scorso ricorderete abbiamo fatto 60, 70, 80, quest'anno abbiamo aggiunto gli anni 90. Perché gli anni 90 sono iconici esattamente come lo sono gli anni 80, come gli anni 70, gli anni 60. Ogni decennio ha delle canzoni che fanno parte della storia della musica italiana e quindi ci è sembrato giusto poter allargare la musica agli anni 90. E accadrà la stessa cosa, come sottolineava già Marco Mazzi, anche nella serata delle cosiddette cover all'interno del Festival di Sanremo, dove gli artisti in gara si potranno esibire con un altro artista e dovranno interpretare canzoni di questi 40 anni, quindi hanno di che spaziare. Allora, canzoni tante si sono incollate addosso a me perché chiaramente io le ho vissute in maniera diversa, ma tante. Forse è chiaro, il decennio che ho vissuto in prima persona meno sono gli anni 60, perché sono del 62 e quindi ci sono nato negli anni 60. Ricordo i dischi 45 giri che appunto avevano mio padre e mia madre di tutte le canzoni che poi magari abbiamo ascoltato l'anno scorso e anche quest'anno. Quello che ho vissuto in maniera particolare sono chiaramente gli anni 70, perché sono gli anni in cui ragazzino le prime feste, le prime serate, le prime neanche discoteche quasi si andava a casa di chi aveva la sala più grande, dove soprattutto i genitori se ne andavano durante il weekend per organizzare le feste, quindi sono gli anni 70. Gli anni 80 per me sono gli anni dell'arrivo poi a Milano, quindi dei miei inizi a punto di vista radiofonico a livello nazionale, poi gli anni 90 sono anni secondo me musicalmente belli, per me sono gli anni delle serate, delle discoteche, insomma. Quindi ogni decennio per me come per ognuno di noi ha un'importanza. Poi ovvio se dovessi scegliere il mio decennio sono gli anni 70. Il mio grande amore è sempre stata la musica fin da ragazzino. Ho cominciato a fare radio che avevo 10 anni nella cameretta e 16 anni in una piccola radio locale qui a Verona, in Borgo Venezia, una radio che non esiste più e si chiamava Blue Radio Star e si sentiva solo nel quartiere. Ecco, quello mi porta a fare questo, cioè ad andare sull'attualità. Io ho sempre voluto ascoltare musica attuale, io sempre anche in macchina ascolto musica attuale, voglio sapere cosa ascolta mio figlio di 13 anni o cosa ascolta mia figlia di 24, perché poi in realtà i loro mondi sono poi quelli che funzionano, chiaramente che poi vanno di più e quindi vado a scoprire, vado a curiosare quasi io a copiare nei loro quaderni per vedere, o nei loro cellulari o iPad per capire cosa stanno ascoltando. E questo mi è sempre piaciuto, ascoltare la musica attuale. E riproporre quella del passato è facile, perché è quella che io ho vissuto, è quella che conosciamo, ma che in qualche maniera è legata, come diceva, a quella attuale, perché i ragazzi conoscono la musica del passato, perché un successo non ha età, sia che riguardi un cantante italiano che internazionale. Insomma, come faceva poc'anzi riferimento il collega di Radio Esercito, una musica, una canzone non ha età, può essere famosa negli anni 70 e tornare negli anni 2000. Grazie a tutti.